Oggi voglio mostrarti come installare e utilizzare il plugin per l'OBS Studio per cui un software aggiuntivo per l'OBS Studio che ci consente di creare video in verticale da desktop per cui andare a creare dei video che poi potremmo andare a condividere nelle shorts di YouTube come nei Reels, in Instagram, come in TikTok eccetera con il vantaggio però di registrare il tutto attraverso la nostra webcam, il nostro PC, il viso, il notebook eccetera nonché anche mostrare lo schermo seppur con delle limitazioni che sono date dal formato orizzontale rispetto al verticale Vediamolo un po' piano piano tutto Andiamo su Google e cerchiamo Vertical OBS Studio Anzi Vertical Plugin OBS Studio Ed è questo Aitum In questo caso viene indicato Linux ma noi quando ci clicchiamo scegliamo Windows In automatico viene scaricata la versione Windows Tra poco parte Vorrebbe partire, eccola qui Sta scaricando, io già l'ho scaricata diverse volte Se non parte passiamo da un sistema operativo all'altro Adesso è disponibile questo plugin Per cui clicchiamo qui ad esempio Se non parte in automatico È disponibile per Windows, Mac e Linux Per cui una volta installato Andiamo ad eseguire Io già l'ho installato Andiamo a indicare dove si trova il percorso Per cui nel nostro hard disk O nei nostri hard disk Dove è installato OBS Studio Facciamo Next, Next e l'abbiamo installato Una volta installato Andiamo in OBS Studio E noteremo subito che L'interfaccia di OBS è cambiata Un attimo solo Siamo per cui in OBS Vedi che è stata aggiunta Un Diciamo qui a destra Un vertical Che mostrerà In questo caso la scena della webcam Adesso è utilizzata da Moari Video Suite Che è il software che sto utilizzando per registrare questo tutorial Vedrai le diverse scene Devi però distinguere le due sezioni Questa sezione qui, quella standard È diciamo di volta a OBS normale in orizzontale Invece in vertical abbiamo il contenuto Che si utilizza qui Diciamo all'interno del dedicato Per cui abbiamo stream in verticale Registrazione in verticale Poi abbiamo diciamo Un reset delle impostazioni I settings per cui i settaggi del verticale E diciamo l'accesso al sito del produttore Per cui le impostazioni che vedi qui Sono per OBS studio generale Invece il vertical Ha delle impostazioni tutte sue La registrazione tutta sua E anche lo stream Per cui non devi diciamo basarti più qui Sulle impostazioni di OBS normale Ma devi configurare tutto È come se avessi un OBS a parte Rispetto a quello che hai normalmente Però il tutto è integrato all'interno della stessa interfaccia di OBS In comune diciamo più o meno Abbiamo il vertical scene Per cui ad esempio Adesso vedo se riesco a spostare un po' in su l'interfaccia Ecco qui così la mostro meglio Queste scene le scene riguardano OBS normale in orizzontale Mentre vertical scene sono quelle che riguardano la registrazione o streaming in verticale Per cui qui possiamo avere anche scene diverse Con elementi diversi rispetto a OBS normale Per cui tanto che diciamo qui è indicato il nome della scena Anche qui possiamo diciamo denominare Ma solitamente viene nominato come vertical scene 1, 2 Noi possiamo diciamo spostare le scene sopra e sotto Così come anche gli elementi Ad esempio io ho una scena verticale con la webcam Che adesso è occupata E poi una seconda con il desktop Il desktop però si vede diciamo sempre in orizzontale Se diciamo andiamo a voler utilizzare il desktop anche nelle scene verticali Possiamo diciamo tagliare andando a spostare il diciamo la scena Andandola per cui a centrare eccetera Però avremmo sempre il problema che essendo un desktop in orizzontale Certo diciamo se il nostro desktop E abbiamo anche un monitor che si può girare E che fa girare tutto il desktop E si può utilizzare ad esempio in verticale Un desktop in questo caso Windows 11 in verticale Anche in questo plugin verticale Potremmo vedere tutto diciamo tutto lo schermo che si adatta al verticale Avendo invece una risoluzione 1.9v Scusatemi 2k 2.560x1.440 Che si sviluppa in landscape Per cui in orizzontale Posso agire solo in questo modo Per cui andare a centrare La scena, la scena del desktop E però verrà visualizzata sempre diciamo La webcam E' possibile diciamo Centrare la figura Diciamo la persona che sta parlando Oppure anche più figure Se ad esempio abbiamo altri plugin Di OBS Che ci fanno collegare con più delatori Per cui Dobbiamo tener conto sempre Che andando ad esempio Nei settaggi di vertical Abbiamo impostazioni simili A quelli di OBS Tanto che ad esempio In streaming Io ho gli stessi settaggi Presi da OBS Diciamo main Per cui i settaggi di OBS principale Qui il server lo devo inserire io Ad esempio se abbiamo accesso Allo streaming su Instagram E abbiamo anche La possibilità di avere L'URL E TMP Di Instagram O TikTok Per cui Dello streaming verticale Anche YouTube Lo andiamo a inserire In decoding Anche posso Diciamo Avere Stessi settaggi Di Di codec Soprattutto Di OBS Principale Di OBS principale Oppure Vado a togliere qui Use main E me ne vado io a personalizzare Se voglio Diciamo Differenziare i codec Ad esempio Anche i formati Tra L'OBS principale Che registra In orizzontale Quello che in verticale Ne general O il contrario Per cui ad esempio Full HD O 1920x1080 In verticale Il contrario 1080x1920 Nonché anche altre risoluzioni Per cui il contrario Se 720x1280 Per l'HD Ready Per cui Abbiamo Un pannello Di impostazioni Che è diverso Da quello Delle impostazioni Di OBS studio In generale Così anche Per lo streaming Eccetera Quando Avviamo Diciamo Vogliamo registrare O diciamo Registriamo Normalmente Andando a cliccare Qui sul tasto Decode Vertical Per fare Solo il verticale Oppure Se vogliamo Fare verticale E orizzontale Possiamo Avviare qui E poi Avviare Anche L'orizzontale Normalmente Con Avvia La registrazione Oppure Se vogliamo Fare solo Verticale Vogliamo Fare Streaming Registrazione Facciamo Clic Sullo stream Dopo Avelo Configurato E facciamo Poi Anche Record Per cui E' Molto Similmente All'uso Di un OBS Normale Senza Altre Estensioni Così In Verticale Solo Che Quando Ad esempio Andiamo In Settings E andiamo Ad esempio Decoding Possiamo Impostare Anche Un Percorso Diverso Di Registrazioni Diverso Da Quello Del OBS Studio Normale Ad esempio Possiamo Crearci Una Cartella Registrazioni Vertical Rispetto A Quella Normale Di Registrazione Orizzontale Per cui E' Molto Semplice E Potente Allo Stesso Tempo Ti Suggesto Di Provarlo Più Volte E Anche Di Condividere I Tuoi Diciamo Filmati Ad Ad esempio Adesso Chiudo Vado Su Tiktok Da Desktop Così ti mostro L'ultimo Tiktok Che ho Caricato Che è proprio Registrato Così Per cui Questo Qui Oggi Voglio Mostrarti Registrato Proprio Con OBS Studio Che Come Vedete Ho Centrato Il Ho Centrato Il La Webcam Che Se non Sarebbe Diciamo In Orizzontale Tutta Estesa Ho Centrato Sulla Minifigura E Poi Sono Andato Diciamo Sul Destro Come Vedete E Piccolino Perché Alla Fine Come Ti Mostrato Prima Viene O Lo Estendo Tutto Quanto Però Viene Spezzato Per cui Si vede Solo La Parte Centrale Più Zoomata Oppure Lo Si Tiene Così Purtroppo Questo È Quando Passiamo Dall'orizzontale A Verticale Però Nel Complesso Potrei Anche Rimanere Solo In Verticale E Farmi Diciamo Un Reel Di Pochi Secondi Adesso Sono Stati Anche Su Facebook Ad Solo Diciamo Il Frontale Per Qui Avere Diciamo La Comodità Della Webcam Da Desktop Comodamente E Farmi Solamente Diciamo La Registrazione Frontale Senza Mostrare Il Desktop Oppure Fare Entrambi Alla Fine C'è Sempre Qualche Apprezzamento Eccetera Diciamo Non Non È Penalizzato Questo Fatto Questo Diciamo Avere Il Avere Diciamo Verticale Con Anche Il Desktop Un Po' Più Impicciolito Per Qui Il Gatto Vi Saluta E Vi Saluto Anch'io Ai Prossimi Tutorial